grazie gianni cominciamo con la parte del convegno sovani e lavoro quale futuro questo convegno e questo titolo è stato pensato e voluto considerando la particolare attenzione che va rivolta ai giovani vedete in questa nata laionistica oltre a tutti tutti service a tutte le attività di servizio che noi svolgiamo una particolare attenzione abbiamo voluto dedicare e la dedichiamo ai nostri soci e ai giovani ai nostri soci l'ho detto nell'intervento che ho fatto prima e adesso parlo un pochino più dei giovani e aggiungo le mie parole quelle che sono già state dette da un magnifico rettore dall'assessore del comune di pari vedete i giovani non sono solamente il nostro futuro come è stato rilevato ma sono anche il nostro presente e noi siamo responsabili di quello che saranno di quello che diventeranno i nostri ragazzi i nostri giovani e per fare questo dobbiamo lavorare intensamente a cominciare dalle famiglie la prima educazione l'educazione più importante deve essere ottenuta all'interno della famiglia vedete 25 novembre queste parole le ripetevo in occasione della giornata contro la violenza sulle donne noi dobbiamo avere il massimo rispetto delle nostre donne delle nostre compagne delle nostre mamme delle nostre figlie e questo è un rispetto che si impara soprattutto proprio dalle nostre mamme si impara proprio dai nostri genitori ma soprattutto dalle nostre mamme l'educazione migliore quella che dalla famiglia poi c'è la scuola la scuola educa la scuola forma la scuola istruisce ed è quindi sono due due ruoli che si completi si completano però sottolineo in questo caso poi oltre all'aspetto della famiglia che non può dare può dare l'educazione che è importantissima può dare anche parte dell'istruzione però l'istruzione va completata ovviamente poi nelle scuole a cominciare ovviamente dalle più basse fino ad arrivare alle scuole superiori e all'università per avviare che cosa per avviare i giovani al mondo del lavoro poi che saranno interpreti saranno coloro che guidaranno la nostra società un domani allora noi dobbiamo fare in modo che siano preparati al meglio e questo è un ruolo è un compito è un obiettivo che abbiamo noi lions ed è uno degli obiettivi prioritari principali che noi abbiamo quello di fare in modo di porre la particolare attenzione ai giochi e vedete noi lo facciamo poi eh noi lo facciamo con i leo noi nella nostra associazione abbiamo i leo abbiamo i giovani e noi facendo entrare un un ragazzo nella nostra associazione leo gli diamo già una formazione gli diamo perché gli diamo un'esperienza e un'opportunità di leadership e gli diamo un'opportunità e un'esperienza di leadership che poi è l'acronimo di leo leadership experience opportunity quindi per dire che non è questo un convegno che nasce dal nulla è ispirato da un'attenzione che la nostra associazione ha da sempre e da sempre coltiva vedete i giovani oggi hanno delle caratteristiche che quando sono inseriti nel mondo del lavoro non si accontentano guardano dove sono inseriti guardano se rispettano ad esempio le aziende dove lavorano i valori ambientali guardano se rispettano i valori etici se no cambiano cambiano lavoro hanno questa forza una forza che le generazioni che li hanno preceduti non avevano hanno un'attenzione che è veramente importante allora noi dobbiamo fare in modo di formare questi ragazzi nel modo migliore la scuola l'università si impegna in questo si impegna attivamente in questo si deve impegnare se permettete che lo dica ancora di più con un occhio particolare anche gli aspetti di ricerca dove spendiamo veramente pochissimo voi pensate che per la ricerca in italia siamo intorno all'1,4 per cento del pil e il 63 per cento di questa quota è data dai privati e solo il 37 per cento viene dal pubblico dalle università e le università mi dispiace dirlo in questa sede perché siamo in una sede universitaria stanno calando le loro risorse dedicate alla ricerca che l'università dovrebbe essere invece un esempio di dedizione alla ricerca quindi una particolare intenzione da parte di tutti è un'attenzione che deve essere sempre in crescita non si raggiunge mai l'obiettivo che i ragazzi cambiano i ragazzi si evolvono più rapidamente di quello che sono i nostri programmi di quelli che sono i nostri programmi i nostri programmi diventano facilmente e velocemente obsoleti nella formazione dei nostri ragazzi così come la tecnologia impone nuove professioni nuove attenzioni nuove discipline da insegnare ai ragazzi e allora è per questo che abbiamo voluto questo convegno e dopo lasciatemi dire che avevamo deciso questo titolo Ursula von der Leyen ha detto che il 2022 era l'anno che l'Unione Europea dedicava ai giovani forse aveva sentito qualcosa scusate la battuta ma ci voleva no i giovani non sono solamente il nostro futuro sono il nostro presente sono la nostra attenzione sono il nostro bene sono il nostro sentimento sono la nostra anima sono quelli che guideranno la nostra società e quindi vediamo un po' dei nostri pregiattissimi relatori che cosa ci riservano che cosa stanno facendo per i nostri giovani quindi passo la parola anche per mantenermi nei tempi alla dottoressa Beatrice Aimi dell'istituto comprensivo sorbolo ci dovrebbe essere anche la dottoressa Lucia Ruidi che però se so che non è impegnata non è presente dell'istituto di istruzione superiore non è prego grazie parlo di qua si sente per me è uguale va bene così ok grazie grazie per l'invito quindi sono molto felice e onorata di essere qui oggi e perché i giovani ovviamente sono la mia grande passione oltre a essere la mia professione insomma fare da guida la mia professione quindi dedico sicuramente a loro tutta la mia vita si può dire e intanto oltre ai ringraziamenti vi porto anche i saluti della dottoressa Ruidi che doveva essere con noi oggi ma ha un impegno importante a scuola a cui accennava anche l'assessore Alinovi prima e quindi non non può essere presente ma cercherò di fare le veci di entrambe in questa mia relazione come è stato detto prima dal governatore grazie ovviamente i giovani sono il nostro futuro il titolo che avete dato al convegno è sicuramente molto importante la mia relazione oggi vuole portare una riflessione vuole portarvi una riflessione su il ruolo che la scuola oggi dedica ai giovani tutti noi credo abbiamo esperienze tutti voi di scuola o perché l'avete frequentata tutti immagino o perché avete dei figli o avete avuto dei figli recentemente che sono usciti dalla scuola e quindi avete esperienza diretta di come si sta vivendo la scuola ma sappiamo tutti è inutile nasconderci che la scuola è in grande sofferenza la scuola sta vivendo un periodo ormai troppo lungo a mio avviso di problematiche che la rendono accennava prima il governatore a questa situazione che la rendono anacronistica fortemente anacronistica di fronte al mondo che corre con una velocità che è incredibile e che lascia quindi rischia di lasciare questi giovani fuori da un contesto e quindi non aiutarli a intraprendere una carriera lavorativa quindi professionale ma anche personale umana conforme allineata al mondo che stiamo vivendo allora parto con la mia relazione dicendo appunto chiedendoci come sono messi i nostri giovani oggi che cosa sta dando loro la scuola questo è un grafico OXE Pisa l'OXE fa delle indagini periodiche sulle competenze dei nostri studenti le fa ovviamente su tutti i paesi appartenenti all'OXE e il nostro guardate la freccia che indica dove siamo ovviamente abbiamo grandissime difficoltà nelle capacità si chiamano competenze alfabetiche letterali in questo caso di leggere e interpretare un testo scritto cioè l'analfabetismo funzionale che riguarda gli aspetti di comprensione del testo è nel nostro paese a dei livelli drammatici voi capite le conseguenze di questo perché non riuscire a leggere e a leggere ovviamente leggere sì ma non basta leggere no? bisogna comprendere un testo se i nostri studenti se la nostra scuola non è in grado di portare gli studenti a interpretare capire che cosa c'è scritto chiaramente non abbiamo solo un problema di scuola abbiamo un problema di società perché questi ragazzi finita la scuola vanno nel mondo del lavoro vivono in una società dovrebbero avere dei valori etici civici che in qualche modo se hanno delle capacità compromesse non riescono a tirare fuori allora chiediamoci come sono scusate non capisco la rotellina ecco questa è un'altra immagine sempre presa dal in questo caso dall'invalsi che è l'ente nazionale invece di ricerca dei dati sulle nostre scuole in Italia che ci mostra come sono queste competenze alfabetiche divise per alcuni settori genere, ripartizione geografica, cittadinanza, tipo di scuola e SCS le SCS è un indice che l'invalsi calcola quando le scuole fanno le prove invalsi l'invalsi chiede i dati di contesto e vede in che situazioni le famiglie degli studenti si trovano rispetto allo status socio-economico-culturale ecco questa fotografia l'ho voluta portare perché non abbiamo solo un problema di mancanza di competenze alfabetiche ma abbiamo anche un problema che riguarda intanto il genere lo vedremo dopo con le competenze numeriche in questo caso le femmine sono più brave rispetto ai maschi per quanto riguarda le competenze alfabetiche abbiamo un grande problema territoriale perché abbiamo un mezzogiorno che è fuori da ogni parametro che riguarda il raggiungimento delle competenze chi è abituato a leggere dati invalsi lo vede ovunque abbiamo anche ovviamente un problema di cittadini stranieri che sono completamente fuori ma che vivono nella nostra società e il problema più grande è che se non riusciamo a istruirli in un certo modo saranno sempre un problema e mai un'opportunità abbiamo il grandissimo problema della segregazione delle scuole cioè tutti sappiamo che chi nasce in un contesto socio economico culturale chi ha i genitori che sono laureati o che comunque hanno una professione o hanno un titolo di studio o una professione che in qualche modo aiuta lo studente a raggiungere le competenze chiaramente ha un maggiore vantaggio e va al liceo quelli di mezzo diciamo magari che hanno meno voglia di studiare o comunque più voglia di prendere un diploma generalmente si iscrivono ai tecnici e abbiamo il grandissimo problema degli istituti professionali che dovrebbero essere in un paese che punta alla professionalizzazione e alla come dire specializzazione in settori tecnici anche lavorativi molto particolari molto specifici specializzati perché ovviamente stiamo andando le industrie vanno in quella direzione un sistema professionale che non diventa altro che un'aggregazione di disagio sociale e che non riesce a rispondere perché diventasse un sistema aggregatore di disagio ma che rispondesse in qualche modo a e quindi a eliminare o comunque a parare il colpo di questo disagio andrebbe benissimo il problema è che invece no che invece aggreghiamo questi ragazzi che rimangono a quei livelli di inadeguatezza di competenze alfabetiche. Allora chiediamoci come sono le competenze scientifiche e ahimè dobbiamo dire che l'ottanta virgola due per cento dei giovani italiani tra i sedici e i ventiquattro anni ha competenze di base nel problem solving completamente inadeguate. Addirittura nel 2019 si trattava del secondo dato peggiore in Europa dopo la Bulgaria lo vedremo anche dopo il problem solving è la capacità di problem solving di pensiero critico è ovviamente la capacità principe nel settore diciamo imprenditoriale nel settore nel mondo del lavoro di domani le competenze che sono richieste oggi sicuramente riguardano il problem solving e i nostri ragazzi sono messi lì se poi andiamo a vedere scusate sta rotellina fa un po' i capricci andiamo a vedere i giovani laureati STEM quindi materie scientifiche tecnologiche e tra i 20 e i 29 anni l'Italia si posiziona sotto la media ovviamente europea e anche questo quindi è un dato che dovrebbe far riflettere. Allora guardiamo anche la divisione l'analogo rispetto a prima della slide che riguarda le competenze numeriche e vediamo che qui le femmine sono in svantaggio sapete che c'è tutta no questo dibattito mediatico STEM e genere femminile perché le ragazze non si iscrivono alle materie scientifiche e quindi nel nostro paese c'è questo gap ma ritroviamo i gap che riguardano la segregazione sul tipo di scuola, il mezzogiorno e ovviamente le SCS dei genitori quindi lo stato socio economico culturale di provenienza a voler dire che la scuola fallisce nella sua mission più importante, nella sua mission istituzionale che è quella di essere il valore aggiunto rispetto al background di partenza perché se una società che vuole fare ascensore sociale, che vuole portare tutti i suoi cittadini a un livello alfabetico, guardate che parliamo non di competenze chissà quali competenze l'invalsi, se voi vedete un test invalsi non è che ci sono chieste delle cose di progettare il razzo che va sulla luna della relazione precedente, no, cioè sono competenze veramente di lettura di grafici, di interpretazione di fenomeni naturali, di comprensione di testo quindi se su queste cose la scuola non riesce a fare valore aggiunto è chiaro che abbiamo un grande problema allora uno dice forse siamo meglio nelle competenze digitali ebbene il nostro paese è addirittura terzo ultimo sotto ci sono solo Bulgaria e Romania quindi siamo indietro anche nelle competenze digitali ovviamente tutte queste diciamo caratteristiche ci portano a un grado di abbandono scolastico e di dispersione tra i 15 e i 29 anni che riguarda un giovane su quattro che non studia e non lavora questo è un grafico che riporta l'indice di povertà educativa i dati sono Save the Children e sono aggiornatissimi perché è il 2021 e anche qui compare chiaramente il grande divario tra il sud del paese, le isole e ovviamente noi per fortuna siamo messi abbastanza bene ma se andassimo a vedere i dati anche il nostro territorio soffre di povertà educativa la povertà educativa è una grandissima sfida che ci troviamo di fronte e è intesa come la privazione da parte dei bambini di tutte quelle opportunità che possono dar loro modo di crescere crescere non solo appunto come persone ma anche come bambini opportunità di gioco, capacità di esprimere i loro talenti, le loro aspirazioni siamo pensate che in Italia un giovane su tre nasce nella condizione di svantaggio educativo quindi direi che siamo messi molto male questi sono i dati che riguardano gli abbandoni scolastici quindi al 13,5 nel nostro paese contro una media europea del 9,9 dispersione implicita che vuol dire giovani che frequentano la scuola quindi non l'abbandonano ma non raggiungono le competenze di cui sopra di cui avevamo parlato prima quindi si chiama dispersione implicita quella esplicita è quella che si vede quella implicita è quella che non vengono a scuola ma è come se non venissero e siamo addirittura a 9,5 sommato al 13,5 vedete che siamo una media di un 25% di dispersione che in un paese diciamo occidentale che si definisce paese avanzato è un dato drammatico eppure la scuola è immobile nella sua posizione la spesa complessiva del PIL in Italia è il 3,6 contro una media oxe del 4,4 qui apro e chiudo una parentesi molto rapida per dire che non credo che il problema siano i soldi forse sarò impopolare nel dire questa cosa ma per esempio pensate alla valanga di soldi che sono arrivati con i PON prima nelle regioni diciamo del sud e poi adesso anche a noi e in realtà i PON nel sud vengono sfruttati da tantissimi anni o meglio male forse sfruttati da tantissimi anni sono tantissimi soldi ma nell'invalsi non hanno fatto la salita di un punto percentuale di competenze di raggiungimento di competenze quindi il problema per me nelle mie riflessioni che porto qui non è un problema di soldi quindi ho messo solo il dato per chiarezza di esposizione ma non penso che il problema sia un problema di soldi questo è ovviamente l'uscita precoce dal sistema scolastico divisa di nuovo per genere, cittadinanza titolo di studio dei genitori ripartizione geografica e professione più elevata dei genitori ancora una volta ci fa vedere come la provenienza culturale, sociale ed economica dei genitori in realtà è quello che fa la differenza questo è un dato, non vi spaventate sempre dell'invalsi mi invito a leggere solo la fascia dell'Italia l'ESCS è quel dato precedente che indica quindi lo stato economico sociale delle famiglie quando la famiglia ha un alto ESCS gli studenti sono bravi quando la famiglia ha un basso ESCS gli studenti non vanno bene a scuola e allora il problema qual è? allora questa scuola sta funzionando vogliamo investire come paese vogliamo investire come riflessioni serie su questa scuola perché non basta ogni anno sovraccaricare la scuola di ore di educazione civica adesso verrà introdotta l'educazione motoria nella scuola primaria l'anno prossimo probabilmente partirà la sperimentazione sulle competenze non cognitive un brutto termine preferirei chiamarle soft skills quindi competenze fondamentali non fraintendiamoci come la socializzazione negoziare i conflitti comunicare in maniera efficace ma facciamo così le riforme della scuola o vogliamo chiederci perché questa scuola non raggiunge risultati che per missione istituzionale per soldi pubblici su cui investiamo ogni studente costa all'anno mediamente 10.000 euro per lo Stato quindi non sono soldi come dire non sono pochi soldi vogliamo finalmente renderci conto avete parlato di bilancio sociale prima vogliamo finalmente renderci conto che questa scuola ha bisogno di un profondo rinnovamento perché così non sta funzionando e da tanti anni che non sta funzionando e tutte le pezze che ci si mettono sono solo delle pezze che fanno acqua da tutte le parti e lo dico guardate con molto rammarico quindi credo davvero che noi abbiamo abbiamo un problema un problema serio al di là della battuta non mi va più avanti né indietro rimane su Houston non so se ha perso abbiamo un problema Houston abbiamo un problema tecnico non va più avanti ecco 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 si è sbloccato però mi prenderà il mouse quindi credo che occorra cambiare il modello di scuola prima non ricordo chi se il governatore o qualche altro relatore avesse parlato di programmi scolastici che rimangono indietro credo lei governatore purtroppo non sono solo i programmi purtroppo è il sistema è il modello di scuola che non sta funzionando è un modello di scuola che ha previsto fino ad oggi linearità, conformismo e standardizzazione perché? perché i nostri studenti vengono a scuola e seguono sono divisi anagraficamente vengono tutti quelli che sono nati nel 96 fanno qui tutti quelli nel 98 tutti quelli del 2000 eccetera scandiscono la loro giornata al suono di campane per cui dalle 8 alle 9 si fa matematica dalle 9 alle 10 si resetta il cervello e si fa italiano poi dalle 10 alle 11 si fa inglese non c'è non c'è e chi ha esperienze di scuola all'estero sa che invece questo è un aspetto molto importante specialmente nel mondo anglosassone e mi fa piacere che il rettore l'abbia citato all'inizio della relazione non c'è libertà di scelta cioè i nostri ci lamentiamo e diciamo che il problema è l'orientamento ma i nostri ragazzi non possono neanche scegliere se fare un pezzo di programma rispetto a un altro all'interno di una disciplina il programma lo fa l'insegnante la centralità dell'alunno nel nostro sistema scuola è inesistente non può scegliere non può decidere non ha spazi anche aggregativi anche al poveriggio per sviluppare i propri talenti poi parliamo di baby gang parliamo di violenza e aggressività giovanile certo che c'è io per la prima volta dall'anno scorso sono a un istituto comprensivo e quindi vedo anche prima ero sono sempre state alle superiori e vedo che c'è un disagio enorme un sommerso enorme di disagio giovanile se questo disagio noi non lo prendiamo signori io sono molto preoccupata perché è tantissimo noi dobbiamo cogliere questo disagio dobbiamo prendere questi segnali non dobbiamo solo dire ci sono le baby gang e allora che cosa facciamo le baby gang ci sono perché il sistema educativo alternativo alla famiglia che quando non c'è quello dovrebbe esserci questo questo sta fallendo questo non ce la fa ma guardate anche con tutta la migliore volontà del mondo e la migliore passione del mondo non ci se la fa ci sono ragazzi che hanno un tale disagio e vengono da situazioni familiari talmente compromesse che o li cambiamo il modello o questi li perdiamo e voi direte vabbè li perdiamo e quindi ne avremo eh no li perdiamo e questi poi delinquono sono aggressivi sono disoccupati che gravano sulle spalle di tutti noi magari si mettono anche in difficoltà e cioè è un problema quello che vorrei far passare della mia relazione è che è un problema di tipo sociale non dare una risposta alla scuola è un problema di tipo sociale non è più un problema di scuole basta se fino a qualche anno fa poteva essere un problema di scuole basta adesso no adesso no perché il mondo sta talmente cambiando che se la scuola rimane costantemente ferma in quello che era 30 anni fa 20 anni fa eh non riesce a sopperire a un bisogno fondamentale invece la scuola eh dovrebbe essere passione curiosità creatività e scoperta tutte parole che sia didatticamente che pedagogicamente sono assolutamente assenti nel nostro sistema parlo di sistema perché grazie a Dio abbiamo anche delle adesso non voglio essere troppo pessimista o sembrare troppo io non sono così neanche di carattere ci sono delle grandi esperienze di innovazione nella nostra scuola e grandi punte di diamante ci mancherebbe altro ma quello che mi preoccupa è il sistema perché voi sapete tutti che quando le azioni non sono di sistema ma sono puntiformi non producono cambiamento no? io posso avere la prima A con degli insegnanti meravigliosi che fa delle cose meravigliose tra cui insegnanti che io non scelgo io non posso mandare via io non posso nemmeno valutare nemmeno valutare ci sono precari eh lo dico senza senza timore perché lo dico sempre in qualunque occasione pubblica che non funzionano che sono inseriti nelle graduatorie e che alla fine io non dico va bene gli insegnanti che sono immessi in ruolo vabbè ormai teniamoci quelli che abbiamo ma almeno santo cielo questi precari che rimangono nelle graduatorie vent'anni magari dieci anni cinque anni sei anni vogliamo alla fine dell'anno almeno dargli una valutazione non volete farlo fare al capo perché il padrone della scuola non può essere un'azienda non volete farlo fare al dirigente va bene va benissimo fatelo fare a un comitato interno di valutazione della scuola che la scuola ha fatelo fare ai colleghi fatelo fare ma santo cielo ma è possibile che uno insegna passatemi il termine da cani l'anno in corso e l'anno prossimo magari io io che non lo voglio più cercherò di mettergli bastoni tra le ruote più che posso per ma non ho tanti strumenti più che invitarle a dire senta professore l'anno prossimo magari se scegli un'altra scuola io sarei molto felice questa è l'unica mia cosa che posso fare il resto va se non torna nella mia perché magari ha detto è la prossima un po' stronzetta quindi passatemi il termine non torno più lì va da un'altra parte ma che cosa ho risolto a livello di sistema che magari la mia classe non ce l'ha più ma però ce l'ha quella di un'altra scuola e allora io che cosa ho risolto non ho risolto praticamente niente è proprio triste questa cosa purtroppo è proprio triste i genitori ovviamente chiedono un'istruzione di qualità perché dall'altro lato chi ha una famiglia che invece capisce il valore della scuola chiede qualità e vede e sente questo anacronismo della scuola e chiede ovviamente una professionalizzazione e una crescita del proprio figlio e della propria figlia allineata ai tempi che sono e invece purtroppo gli strumenti sono questi quindi scusatemi lo accennavo prima questa è una citazione di Ken Robinson Ken Robinson è u era perché è mancato da pochissimo uno dei massimi esperti in politica in policy scolastiche internazionali e lui dice le riforme non servono più a niente perché semplicemente migliorano un modello che è fallimentare quindi ciò di cui abbiamo bisogno non è una evoluzione ma è una rivoluzione dell'educazione e tutto quello che c'è va trasformato in qualcos'altro io sono perfettamente allineata su questo pensiero perché quali sono no le competenze che richiede il mondo del lavoro adesso no ritorno al titolo del convegno giovani e lavoro sicuramente sono quelle in blu flessibilità e adattamento lavorare in gruppo lavorare in autonomia problem solving e la scuola quando è che sviluppa questi tipi di competenze se non è nemmeno in grado di sviluppare quelle alfabetiche e numeriche che sono le più semplici volendo o quelle per cui lei è più attrezzata quando è che ha occasione con un modello così come è di lavorare su queste cose praticamente mai adesso mi scappa da ridere che il disegno di cui accennavo prima alla camera introduce l'insegnamento di queste cose come non si sa con una sperimentazione dentro le ore disciplinari lasciando la libertà alle scuole di fare e quindi come ben sapete come tutte le altre miriadi di cose che sono state introdotte così nella scuola si dà il contentino perché bisogna che a livello di policy istituzionale si dia il contentino e si faccia vedere che si va verso questa direzione poi in realtà non cambia assolutamente nulla aspetta ok quindi dove si pone oggi la scuola rispetto a tutto questo e dove si pone rispetto alle menti le famose menti di Gartner che è ovviamente lo psicologo padre dell'intelligenza emotiva e che dice ovviamente che nel ventunesimo secolo ci vuole una mente sintetizzante che sappia sintetizzare la marea di informazioni di cui siamo sottoposti tutto il giorno una mente etica è stato il tema etico da voi è stato tanto toccato oggi quindi anche dentro la scuola non abbiamo nemmeno strumenti più per educare perché non si può punire non si può far rispettare le regole ci sono tantissime criticità che rendono anche il modello etico fortemente in crisi una mente rispettosa quindi capace di raccogliere di accogliere anche le differenze umane e di lavorare insieme una mente creativa e una mente anche disciplinare che quindi sappia ovviamente anche i contenuti e quindi anche rispetto a questo dove si pone la scuola oggi vi propongo un modello e anche qui torno alla riflessione che facevo ogni volta che a scuola si introduce qualcosa che potrebbe essere veramente significativo poi alla fine questa cosa magicamente non funziona nel 2017 quando la legge la famosa legge buona scuola introdusse il modello dell'alternanza scuola-lavoro io ero contentissima perché finalmente forse il modello riesce a rompersi in qualche modo è un'occasione per rompere il modello cioè questa alleanza scuola-lavoro torno al tema guardate queste slide che è un'indagine che ha svolto ovviamente McDonald's ma insieme a un istituto di ricerca sul ruolo dell'alternanza scuola-lavoro e guardate che cosa dicono i 18 anni secondo loro qual è che sono le competenze utili per trovare lavoro secondo i 18 anni in alto l'aspetto giallo è molto il verde è poco quindi l'abilità di essere un leader la capacità di comprendere le emozioni gli stati dell'animo degli altri questi sono i ragazzi che parlano non è che sono gli adulti capacità di sostenere le proprie idee senza cedere alle pressioni degli altri sono tutta una serie di abilità che gli studenti dicono quando vado in alternanza spero di farcela faccio la dovrei fare devono essere possono abbiamo bisogno sentiamo bisogno che siano in qualche modo raggiunte e sviluppate sta rotellina aiuto aspettate che adesso non mi trovo ok allora no volevo vedere questo bene queste invece sono le skills che i giovani ritengono debbano essere sviluppate dalla scuola e di nuovo tornano l'abilità di essere leader la visione positiva della vita l'idea positiva di sé la capacità di gestire i conflitti cose che la scuola bellamente ignora ma con le esperienze di alternanza lavoro queste potrebbero essere realizzate questa è le competenze che i giovani si aspettano di sviluppare tramite un'esperienza di scuola lavoro forse questa l'avevo già messa scusate ok e questa è invece la differenza insomma sostanzialmente il beneficio di un'esperienza formativa generica in ambiente di lavoro ristretto rispetto scusate alla dotazione di competenze fornite dalla scuola quindi gli studenti dicono che per andare a fare un'esperienza di scuola lavoro le competenze che loro potrebbero imparare sono queste rispetto a quelle che invece a scuola non riescono a imparare quindi la motivazione la capacità di lavorare in gruppo la capacità di risolvere i problemi quindi l'esperienza di alternanza scuola lavoro è davvero un'esperienza che potreva in qualche modo poi vi dico anche perché uso l'imperfetto insomma nel passato perché in realtà quelle esperienze che sono state fatte in alternanza scuola lavoro definita proprio come dalla norma come una modalità didattica innovativa in realtà sono state vissute guardate io parlo cercando di cambiare le slide ma si piantano ok e quindi potevano essere con una modalità didattica innovativa funzione orientativa professionalizzante e formativa in realtà sono state vissute come ombre e questi erano addirittura slide precedenti che avevo da un altro intervento quindi venivano definite ore rubate alle discipline sfruttamento assenza di senso scollegamento al sapere e questa è l'immagine di ieri l'altro del corteo ieri è stato fatto anche nella nostra città sono cortei che in seguito a quei due episodi a parte che non erano neanche alternanza erano percorsi di istruzione formazione professionale ma al di là di quello il problema è la sicurezza sul lavoro non è certamente il fatto che i giovani vanno in azienda a lavorare chiaro che c'è da farla funzionare bene però per me è un'opportunità per migliorare questa alleanza tra mondo e lavoro vado velocemente alla conclusione perché importante e ritorno al punto di partenza perché se la scuola negli anni precedenti da quando diciamo nasce l'unità d'Italia e poi dalla riforma gentile in poi la scuola aveva la funzione di come dire creare andare incontro al mondo del lavoro che era un mondo di impianto impostazione fordistica tayloristica dove era tutto standardizzato la catena di montaggio e quindi la scuola che posizione aveva quella inizialmente di andare incontro a un'alfabetizzazione primaria quindi tutti devono saper leggere e scrivere poi negli anni 50-80 si è un po' spostato il focus sulla prestazione intellettuale anche nel mondo del lavoro e quindi la scuola aveva bisogno di sviluppare conoscenze e capacità dagli anni 90 in poi invece come dicevamo la scuola ha bisogno il lavoro scusate ha bisogno di una prestazione creativa e adattiva e quindi la scuola deve sviluppare competenze competenze che abbiamo visto che non sviluppa affatto e quindi bisogna passare da una scuola che trasmette a una scuola che sviluppa competenze proprio perché insomma siamo passati da lì a lì in pochissimo tempo ok quindi allora ultima slide che cosa fare io credo che per essere propositivi la scuola il mondo del lavoro e l'extrascuola quindi tutto il settore anche terziario insomma orientino le proprie azioni in un'alleanza veramente formativa e veramente efficace verso lo sviluppo delle top skills top 10 skills del 2025 vi ringrazio per l'ospitalità e per l'attenzione grazie 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 mille grazie grazie davvero grazie 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 davvero dell'invito scusate io vi devo abbandonare che ho avuto da ieri un'emergenza familiare un po' importante quindi non riuscirò a seguire il resto vi faccio comunque i miei auguri di buon lavoro e buon proseguimento comunque grazie dottoressa Aimi per la sua brillante relazione veramente molto interessante ha dato particolari spunti e la ringrazio moltissimo c'è un quadro c'è un quadro più brutto di quello che conoscevamo ma però l'ultima slide che propone la scuola fatta in un certo modo e la scuola di impresa direi per poi evolvere diciamo così nella nostra formazione o meglio nella formazione dei giovani ci lascia veramente tante speranze grazie 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 a tutti grazie a tutti